Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video dallo staff di Storia d'Italia. Benvenuti in questo nuovo episodio dedicato al Reggio Esercito. Quest'oggi analizzeremo insieme una delle più grandi unità che presero servizio nel territorio italiano durante l'invasione alleata. Stiamo parlando delle divisioni costiere. Il secondo conflitto mondiale vide al suolo italiano teatro di uno dei più sanguinosi e difficili scenari del conflitto. L'integrità territoriale italiana fu minacciata già da un'incorsione navale francese su Genova, avvenuta il 14 giugno 1940, a pochi giorni dell'entrata in guerra del nostro paese. Anche dall'aria il nostro paese fu duramente colpito da numerosi bombardamenti aerei, questi ultimi concentrati sulle nostre industrie e installazioni costiere. Dato che parlavamo di Genova, la città fu colpita nella notte dell'11 giugno da aerei britannici, perché sganciarono ben 5 tonnellate di bombe. E lo stesso accadde la notte del 13, stavolta da parte di aerei francesi. Il nostro paese, con migliaia di chilometri di costa, si presentava vulnerabile ad eventuali incursioni nemiche, considerando anche il fatto di avere a fianco la Francia e a sud-est i possedimenti britannici di Malta ed Egitto. Già dal 35, l'Italia si stava preparando alla costruzione di un sistema difensivo a difesa delle principali città costiere. Contri abitati come Venezia, Livorno, Palermo, Monfalcone e appunto Genova furono dotate di batterie costiere e pontoni armati, per difendersi da eventuali incursioni navali nemiche. A partire dal 1941, allo scopo di difendere le nostre coste e i nostri porti, furono costituite delle grandi unità costiere, comprendenti reggimenti di fanteria costieri e raggruppamenti d'artiglieria. Il loro scopo era quello di difendere e sorvigliare le nostre coste, e di reagire prontamente nel caso in cui gli alleati sbarcassero nel nostro territorio. Prima dell'armistizio di Cassibile, ne furono costituite 23. Le prime divisioni costiere furono mobilitate tra il 15 e il 25 novembre 1941. Le divisioni ebbero una numerazione tra 200 e 230. La mostreggiatura di queste grandi unità era composta da un rettangolo contenente e un triangolo isoscele. Le divisioni inquadravano sostanzialmente 50 battaglioni territoriali, un'ottantina di battaglioni di camicie nere ed una trentina di raggruppamenti d'artiglieria costiera. In genere non c'è nessun nesso numerico tra divisione e reggimenti assegnati, né standardizzazione di sorta delle dotazioni. In genere le divisioni costiere erano scarsamente armate, equipaggiate principalmente con rimanenze del primo conflitto mondiale. Per esempio è comune trovare foto che ritraggono i nostri soldati appartenenti a queste unità, dotati di elmetto Adrian modello 15 o 16, o più raramente con i moderni M33. Le divise in dotazione erano un misto tra vecchie modello 1934 e più moderne modello 1940. Il formamento leggero è composto dal fucile modello 1891 con onessa baionetta ed alcune mitragliere breta 37 da 8 mm e breta 30 da 6,5 mm. Ora analizzeremo insieme l'organizzazione di una divisione. In termini generali le divisioni costiere comprendevano una ridotta liquida di servizi divisionali, da 2 a 4 reggimenti di fanteria costiera, composto da un numero variabile di battaglioni, ed un raccruppamento di artiglieria costiera, composto a sua volta da un numero variabile di gruppi. Il quartier generale divisionale sarebbe dovuto essere al 12 febbraio 1942 su due ufficiali superiori, un capo di stato maggiore, una sezione operazioni su sette ufficiali, due addetti al personale, un gruppo comando su 43 ufficiali e soldati con una stazione RT, 12 carabinieri per funzioni di polizia militare, una sezione trasporti su 10 uomini, due auto, una camionetta e due moto. La compagnia geno divisionale mista avrebbe dovuto avere 21 uomini, una moto, una bicicletta, due camionette per la sezione comando. In genere, a causa di una mancanza di mezzi motorizzati, era disponibile soltanto una o più biciclette. Infine abbiamo due o più plutoni misti su comando plotone e tre squadre di 14 soldati l'una, oltre ad una squadra mista a trasmissioni su 34 uomini e due stazioni radiocampali. Variabile ed in genere tendente all'esistenza è il parco mezzi trasporti, che nell'ipotesi migliore prevedeva un parco rinforzato su 59 uomini, un'auto, 30 camionette, 4 ambulanze e 4 camion cisterna, ed infine tre moto. Aleatoria come il resto, l'organizzazione delle nostre batterie di artiglieria assegne dalla divisione, che, fatto tipico, il gruppo misto di artiglieria costiera avrebbe previsto. Un gruppo comando su 23 uomini e due mitraietrici pesanti. Una batteria pesante su 112 uomini, un pezzo da 305 e 17 o due da 194 e 29. Una batteria media su 112 uomini e due pezzi da 120, 149 o 152, oppure quattro pezzi da 105 e 28. Una batteria leggera, sempre con 112 uomini, e quattro pezzi da 117 o quattro pezzi da 75. Spesso venivano aggregate unità antiparacatutisti, su due squadre fanteria, ognuna con un sergente ed 11 uomini, con una bicicletta per squadra come mezzo. Divisioni costiere furono le prime unità che gli angolo americani affrontarono una volta sbarcati in Sicilia. I nostri, malarmati e schiacciati da forze preponderanti, combatterono con estremo valore. Nell'isola, al momento dell'invasione e dello sbarco, vi erano le seguenti divisioni costiere. La 202, posta a presidio di una fascia di costa di 100 km tra Mazzara del Vallo e Sciacca. La 206, posta a presidio di una fascia di 130 km tra Siracusa, Punta delle Formiche e Punta Braccetto. La 207, posta a presidio di una fascia di costa di 100 km tra Licata e Sciacca. La 208, posta a difesa del settore fra Palermo e Trapani. E la 213, posta a difesa della costa orientale, schierandosi ad Agnone, a nord di Agusta, a Moletti, a sud della piazza marittima di Messina, lungo una fascia di circa 100 km, comprendente il margine est della pianura di Catania. Ma come si comportarono i nostri? Fuggirono appena videro gli alleati come molti affermano? Andiamola a scoprire. Iniziamo con i reparti della 202esima divisione, che, durante l'invasione alleata, vengono sottoposti ad intensazioni di bombardamento aeronavale, ininterrotte dal 10 al 16 luglio. Dopo questa prima fase, viene investita direttamente da forze americane, provenienti da sud-est. La resistenza messa in atto è però negativamente influenzata dall'andamento delle operazioni nelle restanti zone dell'isola. La divisione è già praticamente cerchiata, in quanto altre forze nemiche, provenienti da Sciacca, hanno raggiunto Alcamo e Partinico. La resistenza della divisione è a breve durata, e tra il 23 e il 24 luglio è costretta a cedere alla schiacciante superiorità avversaria. Invece, i reparti della 206esima, dove violentissimi bombardamenti erano avali, subirono in pieno, e per primi, l'urto della forza d'invasione nemica. Tanto che, fin dalla notte del 10 luglio 1943, i costieri della 206esima ingangiarono gli alleati sulle spiagge di Aula, Castelluzzo e Accassibile. Nonostante la schiacciante superiorità nemica, la divisione riuscì a mantenere il controllo delle zone interne della penisola di Pachino, nonché a neutralizzare i nutriti gruppi di paragatutisti aviosbarcati tra Agusta e Siracusa, a nord di Pachino e intorno a Noto. La reazione dei pezzi del 44esimo artiglieria fu violenta sia contro i mezzi anfibi, sia contro le unità già sbarcate, e in movimento verso i capisaldi della divisione. Alcune aliquide, con i pochi mezzi motorizzati a disposizione, fecero massa intorno a Torre Cuba e Villa Noto, contrattaccando in direzione di Capo Marza, combattendo furiosamente intorno e dentro al caposaldo di Villa Petrosa. In breve, la superiorità britannica divenne insostenibile. Il giorno 11 luglio 1943, la resistenza sulla costa andò progressivamente spegnendosi, frazionandosi in combattimenti isolati mentre l'artiglieria, nell'interno, cercava disperatamente di rallentare la progressione nemica. Alla sera, l'intera penisola di Pachino risultava in mano nemica, mentre sporiatiche resistenze si registravano ancora a Pozzallo, San Pieri, Donna Lucata e Motica. All'alba del 12 luglio, le parti nemici circondarono i resti della 206esima, annientando le ultime resistenze. La divisione è sciolta e imparitata, il personale non catturato si sbanda, le perdite umane e i morti e i feriti sono ingenti, moltissimi prigionieri. Per quanto riguarda invece la 207esima divisione, i suoi reparti opposero una strana resistenza. Fin dal mattino del 10, il generale Guzzoni provvide ad inviare rinforzi dalla riserva d'armata alla 207esima divisione, come il decimo raggruppamento semoventi M41 da 90-53, che insieme al 177esimo e dal decimo reggimento bersaglieri, arrivò a Alicata inottata ed entrò in azione l'11 luglio. I rinforzi stessi sono stati però duramente ostacolati dall'aviazione avversaria, che causò perdite ingenti. Le truppe meccanizzate nemiche tentano uno sfondamento nel settore di Favarotta, ma sono prontamente respinte dai nostri pezzi da 90, che distussero numerosi carri armati e autoblindo. Per numerose ore Favarotta vede numerosi capovolgimenti di fronte, a causa dei numerosi contrattacchi da entrambe le parti. Nonostante il valore dei nostri, le soperchianti truppe anglo-americane costringono i nostri a ritirarsi. Nello stesso giorno, elementi della divisione riescono a cacciare i nemici dall'abitato di Palma e di Monte Chiaro, per poi essere ricacciati indietro a causa degli insistenti contrattacchi avversari. La resistenza italiana opposta, oltre che dalla 207esima del generale Ottonino Schreiber, in collaborazione con la 206esima divisione costiera del generale Achille D'Ave, e dalla 18esima brigata costiera del generale Orazio Mariscalco, fu tanto ostinata che per due giorni gli americani non poterano completare lo sbarco, e rischiarono anzi di essere ricacciati in mare. La medaglia d'oro al valore militare onora comunque la memoria di due giovani ufficiali di complemento della divisione. Il sottotenente Luigi Adorno e il parigrado Vincenzo Barone, caduti durante i combattimenti del 10 luglio. La 208a divisione, a seguito dello sbarco del 21 luglio da parte degli alleati, venne attaccata da superchianti forze statunitensi provenienti da sud-est, dove vivace resistenza a fronte rovesciato, nella quale si distinse il 134esimo gruppo artiglieria da 75-27, e la terza brigata del 215esimo gruppo artiglieria da 122, venne sopraffatta. Il generale Marciani, comandante titolare della divisione, fu preso prigioniero mentre teneva rapporto nel Palazzo Reale di Palermo, colto di sorpresa da un'irruzione di camionette americane, che erano entrate indisturbate in città e si erano spinte fino al centro della stessa. Ed ora arriviamo all'ultima divisione costiera presente in Sicilia, ovvero la 213esima. Nei primi giorni dell'invasione, dal 10 al 13, i suoi reparti vengono sottoposti ad intensi bombardamenti aerei e navali, e solo la notte dal 13 al 14 vengono coinvolti direttamente nella lotta. Robusti nuclei di paracatutisti lanciati nell'interno, a cavaliere del fiume Simeto e uno sbarco riuscito nella zona di Agnone, mettono subito a dura prova le difese della divisione. La reazione delle sue unità però è immediata, e in Agnone riesce ad annullare i progressi conseguiti dal nemico. Accaniti i combattimenti si svolgono contemporaneamente attorno al ponte di Primo Sole, già occupato dal nemico e lungo il fiume Simeto. La manovra della divisione, il 15, consegue positivi risultati perché consente di reoccupare con una taccia colpo di mano il ponte di Primo Sole e ricacciare i paracatutisti verso Lentini. Le perdite della divisione non possono essere rimpiazzate, mentre la versione nemica viene rinnovata da unità fresche, per cui nel pomeriggio del 15 la divisione viene disciolta. Le divisioni costiere non si resero protagoniste solamente in Sicilia. Per esempio, altre unità costiere di Nidinota sono la 209, per esempio, cui fu assegnata la difesa costiera della Puglia, tra Foggia e Brindisi. Queste unità si batte con valore contro i tedeschi all'armistizio, per poi essere sciolta dopo la resa nel tardo settembre del 43. Vi è anche la 222esima divisione costiera, posta difesa del Golfo di Salerno. Il suo comandante, il generale Ferrante Vincenzo Gonzaga, venne ucciso dei tedeschi quando si rifiutò di arrendersi l'8 settembre. Si sa se a sparare fu Udo von Alvenslieben, direttamente con la sua pistola, o uno dei suoi gregari che lo seguiva. L'unità, perso il suo punto di riferimento, si sbandò poco dopo. Le divisioni costiere dimostrarono sia l'alleato tedesco, sia il nemico anglo-americano, il caos che regnava nei nostri alti comandi. Le unità non seppero coordinarsi in alcun modo, sia a causa di una mancanza di infrastrutture, sia grazie alla scarsa volontà di alcuni ufficiali superiori. Lo stesso generale Ottorino Schreiber, nel suo rapporto sui fatti di ricata, esprime i suoi dubbi sulle scelte fatte dai suoi pari grado, che decisero di ritirarsi invece di supportare le sue truppe impegnate negli scontri. I nostri soldati, mal equipaggiati e motivati, seppero resistere eroicamente. Lo sfaldamento di queste grandi unità non va di certo cercato nel loro morale basso, ma bensì nelle perdite pesantissime che subirono nei primi giorni dell'invasione e nella mancanza di punti di riferimento, rifornimenti, rimpiazzi e di ordini chiari. Vi ricordo che questo canale va grazie al vostro supporto su Patreon e Paypal, i link sono in descrizione. Se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e commentate facendomi sapere la vostra. Noi ci vediamo a un prossimo video, ciao ragazzi!